Ero talmente in buona fede che un giorno mi sono incazzato e volevo andare a parlare a un congresso del PD, però per entrare nel congresso mi sono letto lo statuto, dovevo iscrivermi al PD e allora un giorno mi sono drogato, ho detto va a fanculo, sono andato in Sardegna e sono entrato in una sede del PD e con 15 euro mi sono iscritto al PD per poter parlare a Roma al loro congresso e dirgli prendetevi queste battaglie che stiamo facendo, sono le vostre, non sono le mie. Sono le vostre, è la sintesi della sinistra, l'acqua pubblica, l'ingresso nell'informazione libera e gratuita in internet, le energie rinnovabili, i rifiuti, i materiali, i flussi, il traffico, sono cose che dovete prendervi voi. Dopo non è neanche cagato neanche di striscia, hanno detto che io sollevavo ed ero contro il sistema, io ero contro il sistema perché volevo mandare via i condannati dal Parlamento. Nasce così il movimento, nasce dalla rete, se non ci fosse stata Casaleggio, la rete, l'oro, è stata una sintesi, nasce così, da dire ma è possibile, chi se ne occupa? Noi siamo i grandi conservatori, non siamo i rivoluzionari, guardate, ci vedete come rivoluzionari, siamo i conservatori, vogliamo l'acqua pubblica, pensa un po' che rivoluzione. Noi siamo i grandi conservatori, vogliamo l'acqua pubblica, ci vedete come rivoluzione.